è un sax tenore yamaka gts 32 degli anni 80 è un made in japan con chiave del fa diesis i tamponi sono nuovi la matricola è 023 371 ha un bocchino yamaka 4c è un parpool logo per cui va bene per i professionisti in quanto lo stesso busto del 62 ah 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 ah